E' l'accoglienza che gli allievi della scuola di polizia di Viale Malta hanno riservato a Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci del 1992. Sono passati tanti anni dall'attentato, qual è ancora il suo ricordo? Il mio ricordo è sempre vivo, devo dire, anche perché continuo a dire che sono la moglie di Antonio Montinaro, perché quel ragazzo continua a riempirmi la vita ancora dopo quasi 28 anni. E oggi la signora Tina ha incontrato gli oltre 240 allievi per parlare di mafie. Le mafie esistono ancora, sono cambiate, quindi bisogna stare più attenti. e informiamo i ragazzi, diciamo sempre che devono essere vigili, devono sapere quello che è successo nel nostro paese, proprio per far sì che determinate cose non accadano più. E di chiaramente, insomma, sperare che anche queste nuove mafie comunque verranno sconfitti, ma questo lo possiamo fare tutti quanti assieme. Tina Montinaro è stata accolta dal questore di Piacenza Pietro Rostuni, dal direttore della scuola allievi agenti Francesca Canu e da altre cariche della polizia piacentina. La signora da anni presiede un'associazione, è molto tenace, è molto forte, fa lavoro nelle scuole, cerca di coinvolgere tutti, fa capire che cosa significa legalità, perché è necessario contrastare ogni forma di mafia. Parlava di giovani, qui in questa scuola ci sono molti giovani allievi agenti di polizia, qual è il messaggio per loro? Visto che ho avuto un grande marito, un ragazzo che a 24 anni decide di scortare il grande magistrato dottor Falcone, di dire a loro di indossare sempre la divisa, che non è solamente una giacca così, con onore e di entrare in polizia con orgoglio e che debbano fare sempre i poliziotti corretti.